Le sue qualità non sono mai state in discussione, ma questa è la stagione per dimostrare che è qualcosa di più di un buon portiere. Dario Lingua Glossa quest'estate si è preso o ripreso, a seconda dei punti di vista, i pali della Cireale dopo l'addio di Fabio Tasinato. Quest'anno ci siamo confermati in una piazza importante come quella di Cireale. Speriamo di confermare il lavoro che ha fatto il buon Fabio Tasinato e speriamo bene di fare un gran campionato anche quest'anno. Tu nell'altro, tra virgolette, a Cireale l'anno scorso sei stato tra i protagonisti di una stagione tribolata. Quest'anno, se non altro, stai potendo lavorare con grande tranquillità. Sì, diciamo che l'anno scorso quando sono arrivato la situazione non era delle migliori, infatti come sappiamo poi a febbraio c'è stato il fallimento. Adesso diciamo che ci sono tutte le prerogative per fare un buon campionato. Società alle spalle che comunque ci segue e ci fa star bene, quindi speriamo di poter fare quello che tutti i tifosi si aspettano, c'è un buon campionato. Secondo te a Vittoria che Cireale vedremo? Sicuramente una Cireale combattiva, perché come sappiamo Vittoria non è una squadra da sottovalutare. Quindi vedremo una Cireale che comunque combatterà dal primo fino all'ultimo minuto.